Buonasera a tutti e benvenuti ad una rassegna che si conclude oggi, o meglio una felice appendice di Self Made Woman, storie di donne, di libri e di volontariato a colori. Oggi presentiamo in quest'ultimo appuntamento che è stato in realtà un fuori programma, partito da una sperimentazione tra l'Associazione Leggere Edizioni e il CSU San Nicola, del Centro del Volontariato San Nicola di Bari, proprio per raccontare attraverso i libri storie di donne, ma anche storie di volontariato. E qui con noi stasera abbiamo un'autrice umbra, Luisa Patta, ben conosciuta dall'Associazione Leggere Edizioni, che presenta Umane Traiettorie. Benvenuta Luisa. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Però prima di iniziare con la biografia di Luisa, ma anche con le domande che riguardano un po' il suo libro, la Presidente dell'Associazione Leggere Edizioni, Anna Ventricelli, ci farà un breve saluto. Buonasera a tutti. Allora, mi fa piacere essere qui per questo quinto evento, questo quinto appuntamento della nostra rassegna. La nostra rassegna è stata una scommessa vincente, un'idea originale per unire le donne, il volontariato e i libri. È stata una bellissima idea che abbiamo organizzato come associazione e che ci sta dando ancora tante soddisfazioni. Luisa è stata anche lei, come diceva Maria Paola, è stato un fuori programma, perché la serie originale degli eventi sarebbero dovuti essere quattro, sono diventati cinque e Luisa si è aggiunta per un puro caso, in realtà, perché è esatto, esatto. E quindi la ripeteremo ancora nei prossimi eventi di Altamura Demos. L'abbiamo già svelato. L'abbiamo già svelato, mi è scappato. Nei prossimi eventi comunque di leggere edizioni è Altamura Demos. Domani in mattinata abbiamo la premiazione del premio letterario Altamura Demos, l'ottava edizione, e Luisa sarà tra i premiati. Non dirò mai, neanche sotto tortura, qual è la sua posizione in classifica. Voglio una sorpresa. Esatto. Non ho fatto spoiler. Niente, mi è scappato. E quindi ci rivedremo sicuramente prossimamente e speriamo anche con i prossimi eventi di leggere edizione. Volevo anche fare una nota sulle varie associazioni di volontariato che ci hanno accompagnato in questi incontri. Quella di stasera è un'associazione ATMO, si chiama, e ci sarà il rappresentante, il delegato di Altamura, Nicola Corrado Salati, poi lui vi racconterà meglio, sicuramente meglio di me. E quindi, vanno alle ciance, andiamo con la presentazione del libro. Luisa Patta presenta oggi, abbiamo detto, umane traiettorie, percorsi dentro di sé e oltre di sé, edito da Booktribu, è una mamma appassionata, un'educatrice in continuo aggiornamento e svolge la professione in un nido di infanzia a Siena. Si definisce una nomade di pensieri e parole che raccoglie e disperde dovunque, trasmette il suo grande amore per le storie a tutti i bambini che incontra quotidianamente. Recentemente ha ricevuto diversi riconoscimenti in ambito letterario, il premio della critica dell'Etna Book Festival nel 2021, il secondo posto al premio letterario Città Riviera del Brenta, la seconda posizione al concorso letterario Argento Dorato, tutti nel 2021, nella sezione Libri Illustrati, e il terzo posto al premio letterario Città di Meleniano, il primo al concorso dei Mini Racconti 2022, al concorso letterario Scrivendo 2022, il secondo posto al premio letterario Le Mille e una Donna, organizzato appunto dall'Associazione Leggere Edizioni, sempre nel 2022, e arrivata nella Rosa dei Finalisti anche in altri concorsi letterari, tra i quali Le Voci del Racconto, il premio Residenza Gregoriane, il premio di Narrativa Essenziale Formiche Rosse, e il premio letterario Città di Siena 2022. nella sezione Narrativa Inedita, con una raccolta di racconti e una storia per bambini. Ha pubblicato diversi scritti, in tante raccolte di autori vari, ne cito, ne aggiusto qualcuna, Scrivendo 2021 di Cubera Edizioni, e Racconti Umbri 2020 e 2021. Ho anche fatto un riassunto, quindi sono molti di più, questo è, in sintesi. Però, Luisa, come nasce questo libro, questa pubblicazione? Innanzitutto grazie, io vi ringrazio tantissimo, voi lo sapete che nutro molta stima per voi, per leggere edizioni, e il nostro è stato un incontro fortunato, che mi porta qui oggi, a presentare quello che, quando ci siamo conosciuti, ancora non esisteva, o meglio, esistevano i racconti in una forma, diciamo, un po' disomogenea, perché Umane Traiettoria nasce dalla scrittura notturna, perché nelle giornate frenetiche di una mamma, lavoratrice, educatrice, avevo bisogno di un momento di raccoglimento, e quindi la notte ho iniziato a scrivere, mi è sempre piaciuto scrivere, scrivo veramente da quando andavo all'elementare, però non avevo mai pensato che questi iscritti potessero far bene anche a qualcun altro, non solo a me, perché sappiamo prima di tutto della scrittura terapeutica, e quindi niente, poi era scoccata una scintilla che mi ha portato a condividerli, a invitarli a premi, concorsi, e da lì ho ricevuto appunto dei consensi che mi hanno portato a crederci, a credere di più nelle mie parole, e nei messaggi che volevo trasmettere. E così è nato Umane Traiettorie, che sono dei racconti molto eterogenei, che però hanno un filo conduttore molto forte, che è il filo della natura umana, quindi di questa figura, che siamo noi tutti, che a me piace sottolineare, soprattutto contraddittoria, sfaccettata, mai uguale, come un diamante. e quindi è quello che poi ci rende tutti comuni nella diversità. Ci parli dei personaggi femminili dei tuoi racconti? Da Giada, Gabriella, Stella? Eh, sì, allora, non a caso, il primo racconto della mia raccolta si intitola Storia di G, e ha per protagonista proprio due donne, che sono Giada e Gloria. Giada è la figlia adolescente, Gloria è la mamma, una donna, diciamo, matura, e apparentemente sono agli antipodi, chiaramente queste due donne, perché abbiamo una giovane donna alle prese con il primo amore, quindi, chiaramente, con una voglia di vivere, una voglia di scoprire, è tutta nuova. Dall'altra parte, invece, abbiamo la mamma, che è reduce da una relazione fallita, quindi in un momento, chiaramente, amaro della propria vita, che però, piano piano, cerca di conquistare. Cosa hanno queste donne, apparentemente molto distanti? Hanno in comune la voglia di conoscersi, di conoscersi profondamente e rispettare la propria natura. E questo, diciamo, è un messaggio che io sottolineo sempre, soprattutto quando scrivo appunto di donne, ovvero la voglia di rispettare quello che siamo, rispettare la propria natura, indipendentemente dal contesto, diciamo, della situazione. E questo fanno, quindi, le mie donne, diciamo, in generale, nei miei racconti. Ce ne sono molte, diverse, che attraversano anche periodi cupi, molto cupi. Per finire poi, come hai nominato tu, con Stella, che è la protagonista del penultimo racconto, che è mia figlia, diciamo, mi sono ispirata chiaramente a lei. e Stella è una giovanissima donna che sa quello che vuole, decisamente. E spesso dico io, è lei che insegna a me come essere donna. E non è una frase, diciamo, che vuole fare colpo, ma è realmente così, perché ha una apertura, una mancanza di pregiudizio e di limite. A volte, no? A volte ce li mettiamo da soli i limiti, no? Siamo a volte noi stesse limite a quello che vorremmo fare. Invece lei questi limiti non li ha. E quindi molte volte è proprio lei insegnarmi a credere in quello che vorrei fare e portarlo avanti. Anche ecco come può essere scrivere un libro per una donna che comunque lavora, che ha dei bambini, sembra una cosa inconciliabile. E invece non lo è. Non lo è e questo libro e questa presenza mia qui lo dimostra oggi. Bene, mi hai dato un po' di spunti e voglio partire da un passo che adesso leggo e poi da una domanda che si collega direttamente anche a quanto ci siamo detti adesso. Troppe invidie, troppe cattiverie, troppi commenti facili, troppi cliché come quello con cui aveva dovuto fare i conti durante la sua vita. Quando si è molto belle non si può essere anche intelligenti, bisogna scegliere. Così lei aveva scelto di essere intelligente, ma la bellezza non si può nascondere. È come la polvere sotto un tappeto, torna sempre fuori, in un modo o nell'altro. A questo punto io ti chiedo in che modo le tue protagoniste femminili abbattono gli stereotipi di genere? Questa è una bellissima domanda. e questo è un personaggio che in realtà andrebbe approfondito. Ci ho pensato varie volte. E in che modo abbattono? Credendo in se stesse, non ponendosi limiti e soprattutto costruendo una società che non va di pari passo con la dicotomia. cioè non bisogna per forza parlare di femminismo diciamo, no? Accusando il genere maschile. Questa è una cosa che credo molto. Dovrebbe essere un discorso globale che comprende tutti, che parte dall'educazione dei bambini e delle bambine e non dovrebbe essere in dicotomia con l'altro genere, con l'altro sesso. E quindi, diciamo, secondo me è sempre un discorso di apertura verso l'altro come in tutte le cose. e quindi ti direi che una società che funziona in cui la donna può essere ciò che vuole come l'uomo può essere ciò che vuole è una società aperta, tollerante, rispettosa e mai giudicante. Ognuno abbattere il proprio tempo tra un passato sul quale inciampare e perdere colpi e un presente che arriva sempre in orario anche quando non lo aspetti perché lo spazio da percorrere lo stesso per tutti un quadrante dal quale nessuna lancetta può mai scappare. Quanto un po' hai risposto a questa domanda involontariamente ma quanto c'è del tuo vissuto di questi racconti? non sono racconti autobiografici a parte un paio quindi diciamo che una lettura superficiale sembrerebbe poco sembrerebbe poco direi dall'esterno in realtà c'è molto c'è molto nel senso nella misura in cui io sono una grandissima ascoltatrice e sono una spugna nelle relazioni cioè mi immedesimo moltissimo con l'altro una forte empatia quindi diciamo che in un certo senso quello che vive una mia amica quello che vive una persona che incontro al lavoro comunque rientra poi nei miei vissuti cioè una cosa che io porto a casa e su cui relaboro tantissimo quindi direi che in un certo senso tutto ciò che viene a contatto con me e nelle mie giornate poi diventa in un piccolo modo anche affar mio anche cosa mia e io lo dico sempre che per me la scrittura è prima di tutto un nobile gesto di empatia perché scrivendo di un personaggio narrando una situazione è sempre uno spostarsi dal proprio punto di vista a quello dell'altro e è un esercizio che sembra sembra semplice in realtà non lo è per niente però diciamo ti permette appunto di migliorare quello che è l'ascolto dell'altro e di sostendere il giudizio quindi sicuramente diciamo sono racconti che anche se non sono autobiografici nel vero senso della parola comunque io ho rilaborato e vissuto in un certo modo in prima persona comunque quindi in pratica hai già risposto all'altra mia domanda per cui in quelle tematiche non vissute tu ti sei appunto ispirata persone che hai incontrato nella tua vita poi e lo avrebbero guardato con sospetto pensando che fosse di cattivo umore o peggio ancora depresso quella sì che era l'etichetta da evitare quella dalla quale non scappi senza maldestre iniezioni di positività e ridicole gesti compassionevoli meglio fare il pagliaccio anche controvoglia guardò l'orologio sul comodino e pensò che aveva ancora un quarto d'ora per prepararsi il copione in queste in questi tuoi racconti c'è tanto di temi sociali di relazioni del valore del ricordo della diversità del punto di vista degli anziani e delle minoranze e questo passaggio ci fa proprio riflettere sul fatto che c'è una società che ci vuol vedere sempre in forma sempre perfetti sempre di buon umore sempre positivi e che molto spesso magari va ad additare in maniera negativa lo vediamo sempre sui social lo vediamo in tanti episodi quotidianamente è una società che va a bacchettare chi ha delle problematiche chi magari risulta un po' diverso dagli altri un po' diverso prendiamolo ecco fra virgolette questo termine anche chi vuole andare controcorrente e chi non si uniforma la massa quindi tu hai puntato molto su questo aspetto qui c'è molto di mio io mi sono sentita sempre una fuori dal coro da sempre ma anche nelle piccole cose a volte per sentirsi diversi non è che uno deve fare chissà che ma basta una piccola parola o un piccolo fatto e per me è fondamentale che ci sia appunto il rispetto dell'unicità che poi la diversità è quello che ci rende unici e io lo osservo nel mio lavoro quotidianamente lavorando con i bambini al nido e sono proprio invece fautrice di quella che è l'unicità di ogni bambino di ogni bambina a maggior ragione secondo me bisogna appunto per cancellare questo atteggiamento che poi si radica nella società bisogna insegnare fino da piccoli fino dai bambini che a rispettare la diversità quindi a farne una ricchezza e non un problema o un limite al contrario la diversità è una ricchezza e come in tutte le cose diciamo che anche noi stessi l'evoluzione delle specie siamo sempre andati avanti perché ci siamo contaminati e contaminandoci siamo migliorati quindi allo stesso modo la diversità non può farci che bene io ci credo molto e lo insegno anche ai miei bambini e devo dire che ultimamente dei piccoli passi in avanti li stiamo facendo almeno nella nostra realtà c'è più apertura c'è meno meno stereotipo di genere è un lavoro ancora lungo molto lungo però si inizia a vedere qualcosa secondo me e poi io sono una persona positiva e voglio vedere il bello spero che ci sia il bello dovrei in avanti è bello quando le mani libere ti prendo per mano in quei momenti mi sento accompagnare dalla vita come quando tu all'improvviso ti butti in terra e ti stendi lunga sul terreno non importa dove siamo la tua gravità ti richiama verso il centro la paura di perdere quello che sei oggi che un giorno non sarai più a volte mi fa pezzetti diventa panico un figlio che cresce non concede mai una pausa è inesorabile questa tua scrittura è molto introspettiva riesce a scandaleare sentimenti ma anche situazioni comuni c'è stato un autore che in questi anni un'opera in particolare che ti ha guidato? sono una lettrice eclettica univora cioè leggo di tutto da sempre e anche libri piuttosto tosti anche in età un po' precoce diciamo che per esempio ho iniziato con Il rosso e il nero di Stendhal che avevo 15 anni quindi sono partita un po' strong però diciamo che una maestra fantastica dell'introspezione per me è stata Virginia Woolf che adoro e poi ho letto tantissime scrittrici Enierno recente premio Nobel e anche Sibilla Leramo quindi insomma tutta la questione femminista l'ho curata molto negli anni della mia adolescenza e allo stesso tempo però leggo anche contemporanei e vabbè un mio grande master è Hemingway Hemingway lo adoro mi piace tantissimo dai romanzi ai racconti e per me che insomma scrivo racconti e aver letto i 49 racconti di Hemingway mi ha arricchito molto devo dire però diciamo che tutto poi si mescola chiaramente e nella mia scrittura diciamo che rivendico molto anche l'importanza e la bellezza del testo canzone secondo me anche i cantautori dai cantautori si può imparare moltissimo di scrittura e cito vabbè che Andrè ma è proprio a livelli a livelli ecco appunto sono cresciuta a pane di Andrè grazie a mio padre e quindi insomma anche le canzoni anche il canto autorato italiano è un gran canto autorato ci ha insegnato moltissimo e poi vabbè Sepulvera mi piace molto Sepulvera mi ha mi ha fatto appassionare insieme vabbè Chetwin chiaramente grandissimo Chetwin alla scrittura di viaggio che nel mio piccolo ho provato a a fare diciamo comunque anche nei miei racconti tocchiamo vari punti dell'Italia con anche degli accenni di dialetto e di scrittura dialettale e questo mi piace perché per me la scrittura è movimento io non a caso quando vado a correre mi piace correre nella mia campagna senese io mentre corro ho mi proprio mi scorre la storia nella la mente a volte mi faccio i vocali e me li mando perché mi vengono delle idee dei quiz proprio lampanti che devo fissare quindi per me la scrittura è movimento al contrario di quanto si possa pensare lo scrittore lechino sulla scrivania che è anche questo perché poi le cose devi scrivere però il momento di genesi è sempre nel movimento e questa è una cosa fondamentale per me quindi associo tantissimo la scrittura al viaggio al movimento che poi incontro di luoghi incontro di persone incontro di storie incontro di lingue infatti un incontro o meglio una corsa ti porta poi a scrivere istinto di sopravvivenza che è il racconto che poi è risultato il secondo posto nel concorso indetto da leggere edizioni sulle milioni e madonna quindi mentre tu corri affronti proprio questa tematica esatto sì lì infatti la tematica è una tematica di cui dovremmo parlare tutti i giorni non solo il 25 novembre che è la giornata contro la violenza sulle donne perché appunto istinto di sopravvivenza parla di di incontro banalissimo con un uomo che probabilmente pensava tutt'altro e non aveva nessuna mira su di me però in questa società noi siamo spaventate non bisogna vergognarci a dirlo o a nasconderci è vero quello che magari dieci anni fa non avrei neanche notato per immaturità o semplicemente oggi mi fa paura incontrare un uomo mentre sono da sola che corro in campagna e un uomo magari mi guarda in modo che a me sembra più più forte di altre volte può generare della paura e quindi questo racconto parla proprio di questo di come nasce la paura quando nasce la paura come siamo diventate così spaventate quando siamo diventate così spaventate e è una riflessione quindi sul sul limite su questo limite molto sottile tra libertà e appunto pericolo no? dov'è? dov'è questo limite? e quindi è una riflessione che mi ha portato appunto a vincere questo premio che mi ha fatto molto piacere e che mi porta a riflettere quotidianamente su questo tema che poi non è altro che la consapevolezza perché la cosa più importante secondo me è la consapevolezza e rendersi conto di quando si ha paura perché si ha paura e credere a certi a certi sentori a certi sessi sensi che ci vengono addosso che sentiamo sulla pelle e sicuramente non non banalizzare non giustificare e non nascondere infatti a questo proposito c'è un racconto che ho considerato ritenuto molto molto intenso che è il vecchio appartamento che affronta una tematica molto complessa che è quella della violenza domestica ma lo sentivamo lo stesso anche se facevamo finta di niente facevamo finta a casa facevamo finta a scuola facevamo finta sempre anche quando eravamo sole io e mia sorella un'omertà che ci pareva buona cosa perché anche mamma non ne parlava mai credevamo dovesse funzionare così mamma diceva sempre che a maneggiarle le cose che puzzano puzzano ancora di più quindi in questo racconto che parla appunto di violenza di violenza domestica si fa questo accenno appunto al silenzio al senso di vergogna al voler nascondere situazioni particolarmente complesse ti chiedo se nella tua esperienza di educatrice ti è mai capitato di avere a che fare con situazioni di questo tipo sì purtroppo mi è capitato tanti anni fa quindi ero ancora una ragazzina perché ho iniziato prestissimo a fare l'educatrice di nido studiavo ancora all'università e mi è capitato nei primissimi anni di conoscere una donna che era vittima di violenza domestica una cosa mi ha fatto terribilmente male perché non non avevo gli strumenti ero veramente giovane e sentivo di non di non sapere cosa fare volevo fare ma non sapevo cosa chiaramente ho provato con il dialogo che poi è la prima forma no? la prima forma che abbiamo però ho trovato un muro e non è stato facile andare oltre diciamo non è stato possibile andare oltre e questo questo ricordo lo porto sempre con me e forse inconsciamente anche tornato fuori durante la stesura del racconto perché il racconto il vero protagonista di questo racconto è proprio il silenzio è proprio il silenzio e che 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 ingabbia tutto che copre tutto che blocca tutto e ed è proprio lì che dovremmo invece accendere la luce in questo modo di affrontare di denunciare e di non nasconderci perché poi vedi che succede che questo è un modo che si replica nelle figlie no? chiaramente tu comportandoti in questo modo inconsciamente insegni a tue figlie a comportarti ancora in questo modo e passi un messaggio che purtroppo si radica e si perpetua e quindi è proprio qui soprattutto nel non detto e in quello che crediamo di non insegnare che invece sbagliamo che invece ecco purtroppo non volendo passiamo alle generazioni future e quindi insomma io spero che queste generazioni nuove abbandonino questo questo modo di sotterrare e di tenere queste faccende come fossero vergogna e come fosse una cosa da non dire lo spero vivamente e nel mio piccolo ora che ho chiaramente più strumenti per poter fronteggiare le situazioni chiaramente non mi comporterei come mi son comportata 15 anni fa e probabilmente magari avrei un numero più da chiamare una cosa in più da fare e questo è importante mi da insomma la consapevolezza che un passino in avanti forse lo stiamo facendo bene bene sì a volte ci troviamo un po' impreparati davanti a determinate situazioni però l'esperienza poi va a colmare questo questo genere ecco di defiance che purtroppo possono avvenire prima di dare magari spazio a qualche domanda vorrei parlare appunto della storia di volontariato di oggi e lo facciamo con Nicola Corrado Salati dell'Admo che ci parla appunto dell'esperienza di volontariato suo personale ma anche qui sul territorio arriva arriva eccoci non ci mancarebbe buonasera a tutti grazie dell'invito Admo Admo è un'associazione di denatori di midolossio la nostra missione è quella di ricercare potenziare i denatori di midolossio il nostro target sono ragazzi dai 18 ai 35 anni prima sentivo una ragazza che ha detto ho 35 anni e ho già pensato ma può darsi che riesce a farlo perché questa età perché per entrare in questo registro internazionale mondiale si può entrare dai 18 ai 35 e ci si rimane fino ai 55 anni perché entrare in questo registro spesso anzi quasi sempre ragazzi bambini malati di leucemia l'unico traguardo che hanno per poter rivivere la seconda vita è quella di ricercare il suo fratello genetico e la compatibilità è una 100.000 anzi nel sud siamo a una 120.000 e quindi più ragazzi si tipizzano cosiddetto fanno questo piccolo esame che poi è soltanto un po' di due provette di sangue e più ragazzi entrano in questo registro e più possibilità hanno questi bambini ma non solo anche adulti malati di leucemia o altri tipi di tumori sul sangue di potersi salvare quindi l'appello è appunto a tutti i ragazzi o comunque anche magari a genitori che hanno ragazzi insomma di un'età ancora fra virgolette possiamo dire così tipizzabile da tipizzazione di poter donare appunto più ampia è la banca dati più ci sono possibilità di salvare vite sì esatto spesso il blocco lo abbiamo in famiglia forse è sicuramente una cattiva informazione da parte dei genitori stessi che pensano che il midollo spinale è la stessa cosa del midollo osseo assolutamente no sono due cose totalmente differenti uno è il midollo osseo che è è il sangue midollare e l'altro è il midollo spinale che non si può toccare altrimenti ci si rimane su una sedia rotella il modo di fare il cosiddetto prelivo la differenza di prima è molto più semplice meno cosiddetto invasivo oggi più dell'80% viene fatto cosiddetto da periferico come si sta facendo attraversa del sangue e prendono le cellule staminali e poi ti ringhiettano lo stesso sangue in quel momento stesso stai attaccato a questa macchina per quattro ore e finito lì cioè con un semplice gesto puoi salvare una vita male e il bello di essere un donatore io purtroppo sono già fuori per oltre i 55 anni quindi fuori anche del registro ma il bello di chi dona è che ogni mattina dicevo prima la amica ogni mattina che si sveglia con lui che ha donato sa che in un'altra parte del mondo è una persona che lui non conoscerà perché c'è l'obbligo dell'anonato un'altra persona fa colazione non la stessa Maria che stai facendo tu soltanto perché hai fatto questo semplice gesto ti riempie il cuore di poter andare avanti e vedere la vita un po' diversa rispetto a quello che oggi si pensa grazie a Nicola Morato Salati grazie se ci sono domande le accettiamo ben volentieri domande curiosità va bene Luisa allora andiamo avanti nel frattempo qualcuno qualche domanda insomma verrà i tuoi prossimi progetti hai pensato magari pensi così anche in maniera voglio dire ancora abbastanza aleatoria ecco e brionale ad una tua prossima pubblicazione oppure no io ho un sogno nel cassetto ne ho tanti però vabbè uno diciamo in ambito letterario mi piacerebbe tantissimo scrivere un romanzo che parli della Sardegna che è il luogo diciamo di origine di mio padre mio padre sardo e io mi sento molto molto sarda diciamo più della metà dico sempre più della metà sarda cioè ho veramente nel sangue un'isola che mi scorre fortemente e un sogno sarebbe appunto scrivere della Sardegna ripercorrere magari la sole familiare dei miei nonni della loro grande famiglia e mio nonno è stato minatore per 30 anni nel sul cissi che le siente una famiglia numerosa con sette figli quindi ne avrei da raccontare insomma mi piacerebbe mi piacerebbe tornare alle radici dei miei nonni di mio padre della mia famiglia e raccontare di questa terra che per me è madre è una terra che sento veramente madre sì insomma un progetto c'è 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 altri concorsi sicuramente sono quelli sì ok va bene va bene quindi ci sono domande? sì volevo chiedere a Luisa visto che appunto è un educatrice quindi hai sotto mano tante nuove generazioni e parlare della diversità noi in questa rassegna abbiamo raccontato la storia di volontariato vieni davanti mi voglio raccontare una situazione mentre per quanto mi riguarda abbiamo raccontato la storia dell'autismo perché sono presidente di un'associazione guardavo la fettura sì infatti e questo aspetto qui insomma lo riteniamo fondamentale perché c'è un'incidenza altissima e tu me lo puoi confermare siamo a 1 su 70 Natino con un aspetto autistico questa situazione nell'ambito scolastico e nell'ambito un po' della comunità normalmente noi riscontriamo veramente difficoltà nell'accettazione e nell'affrontare e nel fare in modo che lo sguardo verso come dicevi tu verso l'altro sia empatico questo perché siamo ormai diventati abbastanza cinici forse lo eravamo anche prima ma adesso anche un po' di più rapidamente con l'aspetto covid tu come educatrice come ti comporti quando insomma incontri queste situazioni è una bella domanda e non so se lo sai ma all'interno c'è un racconto che parla di autismo si chiama c'è uno spettro a casa mia proprio perché nella mia realtà quotidiana lo incontro una situazione che incontro come dici tu con un'incidenza alta e allora il discorso è che siamo noi spesso i primi a a vedere qualche elemento vedendo tanti bambini siamo noi spesso che ci accorgiamo che c'è qualcosa diciamo di 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 diverso e è difficile perché perché una volta siamo appunto noi i primi a parlare con le famiglie siamo in questa posizione estremamente delicata estremamente difficile quindi che succede che noi spesso non arriviamo a una certificazione perché sono troppo piccoli è una certificazione che arriva poi alla scuola dell'infanzia perché io proprio lavoro al nido quindi dai tre mesi ai tre anni quindi raramente facciamo un percorso di 104 di certificazione non abbiamo proprio i tempi però dal punto di vista educativo allora posso dirti che diciamo che partiamo da un presupposto che ogni bambino per noi è un mondo a sé quindi e qui veramente dicono come fate come fate a trattare ogni bambino no? a rispettare il suo il suo mondo visto che siete un rapporto comunque non è che c'è un'educatrice per bambino eppure insomma la nostra missione è proprio questa è riconoscere di ognuno le potenzialità e i punti deboli e lavorare con ognuno come se appunto fosse un fiore a sé no? da far sbocciare perché poi l'educazione questo è è tirare fuori quindi qualcosa che loro hanno che va solamente diciamo fatto sbocciare quindi devo dirti che paradossalmente non ci sono grandi differenze su come possiamo trattare un bambino che forse è nello spettro autistico piuttosto ha un altro ecco per quello ecco non per noi almeno è una bella realtà educativa la nostra ora non è però siamo insomma servizi educativi che puntano tantissimo appunto sull'anido diciamo che rende il bambino protagonista e non il contrario cioè ogni bambino deve essere protagonista del proprio percorso nella misura chiaramente in cui riesce ad essere partecipi a una certa realtà quindi io ti direi che per noi nell'educazione non c'è differenza cioè siamo per noi sono veramente lavoriamo nello stesso modo con tutti perché tutti sono diversi e anzi a maggior ragione insomma poi ho una sensibilità particolare verso un'affezione tantissimo tantissimo ai bambini che magari hanno una chiamiamola così predisposizione diversa non chiamo difficoltà è una predisposizione diversa e quindi insomma sono storie poi di vita che porto avanti e mantengo anche rapporti con le famiglie dopo l'altermine del nido quindi insomma la cosa che ti direi è che per noi non fa differenza a livelli di di nido cioè lavoriamo con tutte allo stesso modo e magari certo cioè di fronte a certe realtà magari si fa un pochino più fatica ma non perché perché anche noi dobbiamo educarci in un certo senso no? dobbiamo capire su cosa possiamo lavorare siamo noi che diciamo facciamo una regia diversa di fronte a queste situazioni ma è l'opposto cioè non sono loro che si devono adeguare a noi alla routine del nido ma siamo noi che comunque dobbiamo andare incontro loro però una cosa certa è che al nido è importantissimo soprattutto per bambini che magari presentano queste particolarità è lavorare sulla routine sulla tempistica e quindi la ritualizzazione degli eventi e quindi magari si lavoriamo più su quello su un gesto lento questo è importante ora siamo tutti frenetici una società forse tu dicevi siamo diventati più cinici forse ma siamo diventati più che altro senza essere che non hanno tempo per fare niente perché a volte non è che siamo cinici ma è che ci manca il tempo cioè una scusa chiaramente no? però è diciamo sempre così non è che quella cosa non la voglio fare è che non ho avuto il tempo non è che non ti ho voluto chiamare e che non ho avuto il tempo quindi non è che siamo cinici è che non riusciamo più a fermarci e a rispettare la priorità la nostra priorità delle cose non riusciamo più a mettere in scaletta le cose importanti e quindi poi diventa tutto un grande calderone e sembriamo io spero ecco sembriamo cinici a volte qualcuno lo è però insomma molte volte invece siamo semplicemente presi dalle nostre mille corse quotidiane quindi quello su cui lavoriamo spesso al nido è proprio recuperare questa lentezza essere lì nel momento gustare ogni cosa che stiamo facendo stiamo lavando le mani bene facciamolo con calma tocchiamo l'acqua tocchiamo il sapone sentiamo cosa si prova in quel momento e questo in situazioni un pochino più delicate abbiamo visto che aiuta moltissimo aiuta tantissimo e poi cosa succede che come dicevo prima con l'esempio negativo si crea invece un esempio positivo perché anche gli altri bambini sono portati ad accogliere l'altro perché vedono noi che facciamo in un certo modo e quindi e quindi vanno più lentamente anche loro si guardano di più negli occhi perché puoi osservare è fondamentale insieme alla lentezza l'osservazione è fondamentale infatti noi da un paio di anni stiamo facendo un progetto sull'Aldora Education che è un gioco all'aria aperta che ora è tornato un po' diciamo di moda l'abbiamo preso dai paesi scandinavi sempre è stato però ora c'è questo bel nome Adora Education e sembra andare più di moda semplicemente c'è sempre stato però cosa ci ha portato ad essere più osservatori a fare un passo indietro perché spesso facciamo troppo e diciamo troppo anche in senso educativo anche noi educatrici e invece osservare i bambini che hanno risorse infinite ci ha portato a conoscerli di più a capire anche le dinamiche che si stavano tra loro e a vedere quelli che sono i loro progetti invisibili perché loro fanno tantissimi progetti invisibili che se non ci fermiamo a guardarli non li vedremo mai quindi insomma secondo me la chiave comunque per entrare in connessione con questi bambini è osservarli tanto la lentezza e sicuramente l'ascolto insomma sono tre parole chiave ascolto lentezza e osservazione che è quello che facciamo con tutti però ha maggior ragione in certe situazioni no no io devo dire che ho centrato un po' la tua personalità anche se non ho letto il libro anche se non ho letto il libro adesso mi stai insomma sollecitando a farlo questo libro mi è arrivato due giorni fa praticamente quindi però hai proprio centrato l'obiettivo cioè quello che bisognerebbe fare in ogni ambito è esattamente ciò che è descritto gli educatori che hanno un ruolo fondamentale dovrebbero trasmettere un po' a tutti esattamente questo sentimento quindi io non ho usato a casa il termine cinismo perché mi piace farlo perché ritengo che sia una condizione diffusa ma la realtà dei fatti è che maggior parte delle persone a livello della frettolosità comunque sono concentrate su se stesse e quindi quando vedono le differenze che possono essere a livello appunto di diversità di percezione sensoriale perché l'autismo è anche questo è una diversa percezione un diverso modo di stare al mondo ma anche io lavoro molto nelle scuole e lavoro con i progetti con i ragazzi con i bambini e lavoriamo quindi appunto sul rassismo sull'integrazione su tutta una serie di queste tematiche che sono appunto fondamentali per una società che debba essere inclusiva quindi se partiamo proprio dal mido e facciamo sì che bambini famiglie e tutto quello che ci gira intorno vede l'altro come una non differenza ma come una sfaccettatura dell'essere umano perché tra l'altro le neuroscienze ci dicono questo che il neurodiverso non è un malato non è un dicattato però la storia che noi leggiamo ogni giorno e purtroppo nelle scuole la vediamo io ho una ragazza di vent'anni quindi il percorso l'abbiamo fatto tutto non so se assurdo sia differente no ma credo che sia dappertutto ci sono le cose positive e quelle negative però abbiamo visto come effettivamente le difficoltà ci sono in ogni ambito e soprattutto abbiamo una legge sull'inclusione garantista ai massimi livelli una delle migliori al mondo ma che non viene attuale nei fatti quindi noi ci ritroviamo con un contesto che non include nella maggior parte dei casi con tutte le accessioni positive che tu hai benissimo dimostrato raccontando come capisci la dimensione quindi fare la scrittrice e raccontare queste cose e soprattutto raccontare questa dimensione di empatia ritengo che sia fondamentale perché è pur vero che noi non quando scriviamo partiamo da noi no? comunque partiamo da noi poi i racconti non saranno prettamente autobiografici ma raccontiamo quello che noi sentiamo quello che noi viviamo quindi il compito dello scrittore è fondamentale per trasmettere un sentimento che debba essere di accettazione e di inclusione di tutti quindi complimenti assolutamente e mi la giuro è libero a questo punto grazie bene ci sono altre domande? curiosità la Presidente vuole concludere l'incontro? sì un grazie va bene a Nicola Conrado Salati e all'Admo e adesso la Presidente conclude io sono contenta contentissima di averti qua per la seconda volta in Altamura a questo punto mi auguro di averti la terza cioè due senza tre che no mi sembra anche giusto allora noi ci vediamo domani mattina sicuramente e spero che abbia fatto piacere di questa rassegna di questa presentazione di questi libri e ci vediamo presto alle prossime presentazioni grazie a Maria Paola e grazie a Lisa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti